Vi dovete mettere un po' di carino a poste, fate una pasta si deve portarvi. C'è una farina? Sì. 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 Mi chiamo Melchiorre, ti offro questo incenso perché tutto il mondo sappia che solo tu sei Dio, il vero Dio. Mi chiamo Paldassare e ti offro questa nuova. Gesù vive per tutti, per tutti, poveri, per chi è solo, bravo, accogliarlo in nostri uomini e facciate modo di dare un certo e di dono, di luce, la nostra vita. C'è un po' di caratteristica, non c'è un po' di caratteristica. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ordinando il censimento di tutti gli abitanti dell'impero romano. Cittadini, nell'ordine di Quirino, imperatore romano e vostro sovrato, tutti i sudditi devono farsi registrare in una propria città d'origine. Così è scritto e così si è fatto. Grazie a tutti. Ti saluto, oh fine di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai provato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerei Gesù. Eccomi, sono la selva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Giuseppe, Giuseppe, non hai paura di prendere con te Maria come Pasquo? Il figlio, il figlio, il figlio, il figlio che hai concepito è frutto dello Spirito Santo. Quando verrà la luce, giuro che amerei Gesù. Egli è il figlio di Dio, il salvatore del mondo. Tu sarai tu su dedicare a tua sposa e del bambino. Dio ti ha benedetto. Egli è il figlio di Dio, il figlio di Dio, il figlio di Dio, il figlio di Dio. Egli è il figlio di Dio, il figlio di Dio, il figlio di Dio. Egli è il figlio di Dio, il figlio di Dio, il figlio di Dio. Egli è il figlio di Dio, il figlio di Dio. Egli è il figlio di Dio. Mentre Giuseppe e Maria eravano contenti per farsi registrare, si compirono tra lì i giorni del Paolo. Gide ad adesso il suo figlio primo gesto, lo colsi in pace e lo depose in una mangiatoria, e subito a farle mangelo e non ho finito l'esercito celeste. Signora, molto a pezzi, signora, molto a pezzi. Mentre lo so, no, metto lo so. Alleluia, alleluia. Assessiamo ora alla violazione dei magi, una cortesia che ha un po' di due o davanti alla nascita, perché devono passare i magi. Un segno luminoso aveva tirato dalla confusione di uomo di sapere, chiamato i magi. Alcuni di loro si intervigiano alla licenza di questorete da Nato. Seguirono la pastella e si fermò su l'uomo in cui si trovava il cammino. Lo strato si svolgolava. Poi affinano i loro figli e gli offrirano oro, l'incenso e l'inferno. Noi siamo dei sabbietti venuti dal lontano oriente. Io sono Gaspare, ti offro quest'oro e ti riconosco come re dei giudini. Mi chiamo Merchione, ti offro quest'incenso perché tutto il mondo sappia che sull'orco si è Dio, il vero Dio. Mi chiamo Faldarsame e ti offro quest'amica. Gesù viene per tutti, per gli uomini, i poveri, per chi è solo, ammalato. Accogliamolo nei nostri uomini e facciamo in modo che la ricerca e l'inferno sui lumi della nostra vita. Uscendo un po' di più se passa, che si è il popolo che è il po' di parte dei figli. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.